e lo dico con molta patatesa, dando l'atto che Berlusconi è un campione delle campagne elettorali aspetta, ancora non trovo, ancora non siamo brutti, ancora non si sa niente ma come ti senti? come stai? ma non stavo agitato, non stavo assolutamente agitato per me, non dico che c'era la palla di cristallo però mi sembrava abbastanza quasi scontato, verso le 5-6 ho visto un po' d'ansia negli occhi di tutti quanti, alcune dichiarazioni, alcuni numeretti che sono usciti adesso qua in televisione ma credo proprio che non ci siano problemi a meno che, ma non credo proprio, non ero in ansia per me, adesso speriamo comunque, spero che questo cambio cambi un po' anche qualche cosa per noi, ma rispetto allo spettacolo? è appunto, è appunto la dichiarazione del momento è un po' difficile, questo momento, diciamo che stiamo rischiando di perdere il senato, magari ci fa un po' preoccupare, c'è un'aria triste, comunque speriamo bene grazie mille Grazie. Grazie a tutti. 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 Siamo andati oltre i sondaggi. come io prevedevo. E' rivoluzionaria e rivoluzionaria e l'Italia è bella, fammi restare qua. Come ti senti? Poche emozioni? Pochissime emozioni. Vado a casa senza emozioni. E' rivoluzione. per l'inzioni per l'inzioni per l'inzioni per l'inzioni. E' rivoluzione. 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 E 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 rivoluzione. Uè uè uè, uè uè, uè uè, oh jamais Uè uè uè, uè uè, uè uè, oh jamais Que de fumer autour de toi, c'est pas ce que tu cherchais Et le rêve sur le chemin, oh jamais Que de fumer autour de toi, c'est pas ce que tu rêvais Et le rêve sur le chemin, oh jamais